Trend positivo nell'ottica del risanamento aziendale per la SACA, lo sottolinea l'amministratore unico della società, Domenico Petrella, nel presentare il pre-consuntivo 2014 e il bilancio di previsione 2015. La previsione 2015 è ancora migliorativa, con un margine operativo che passa da 1 milione e 2 a circa 2 milioni di euro. A contribuire ai maggiori introiti è stato l'aumento dei comuni serviti. Il numero dei comuni sta crescendo ulteriormente, siamo a 27 sui 36 dell'ambito, quindi sostanzialmente rimangono fuori alcuni piccoli comuni, rimane fuori ancora il comune di Pacentro per il quale abbiamo riavviato una relazione perché loro avrebbero l'obbligo di conferire il servizio. Contiamo di arrivare nel corso del 2015 anche a 31 comuni sui 36. Per quanto riguarda gli investimenti, cosa è previsto per quest'anno e per i prossimi? Tra una decina di giorni chiuderemo tutti i progetti esecutivi degli investimenti FAS regionali, quindi si tratta di circa 5 milioni di euro di investimento, più un'altra serie di investimenti che vengono dallo sblocco a Italia e anche dal FAS Valle Peligna per un impegno complessivo di circa 11 milioni di euro. Con i 5 milioni di fondi FAS regionali si procederà al miglioramento dei depuratori di Castel di Sangro, Campo di Giove, Sulmona, Bagnaturo e Pesco Costanzo, mentre 500 mila euro verranno investiti per gli interventi di misurabilità dell'acqua. Con gli 800 mila euro del FAS Valle Peligna verrà costruito un impianto per l'essiccazione dei fanghi. Per quanto riguarda le criticità, si registra nello scorso anno un aumento delle morosità che si attesta sui 600 mila euro. A fronte delle morosità sono state aumentate le rateizzazioni. Per il 2015 le bollette subiranno un aumento del 6,5% con un incremento per le famiglie di 5-6 euro. Si tratta della tariffa più bassa della regione che comunque non dipende da noi, ha precisato Petrella. La bolletta non dipende mai da sai il costo dell'acqua perché viene determinato dall'autorità di vigilanza, la EGSI, che stabilisce in base ai nostri costi, agli incassi e agli investimenti che facciamo, una revisione in più o in meno. Questo è il dato importante. Potrebbe anche imporci di ridurre la bolletta. L'incremento per il 2015 è autorizzato dall'autorità del circa 6,5%. Quindi vuol dire 4 centesimi in più a metro cubo fino a un consumo di circa 100 metri cubi, che più o meno è lo standard 100-120, è lo standard di una famiglia di tre persone.